vai parlate vai quanti anni hai? di sicuro più di te quanti anni hai dimmi? 14 14 ok i proprio 10 12.000 e il cazzo vai 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 invita gli altri vedi come ti sfondo al culo tu madre è scuola guarda gli altri io sono freddo il culo guarda gli altri 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 poi vai parla ammazziamo un solider dato si va piange altro da dire essendo che essendo che vi credete forti ad ammazzare a sparare il canale giudì il canale giudì momento subito il video chiudi il canale devi chiudere il canale chi metti sono le primi bambini del mondo dai perchè hanno gli insulti perchè hanno gli insulti va insulta insulta vieni nel party insulta le palle perchè hanno gli insulti vieni che facciamo fermarti perchè hanno l'insultimo insulta dai metti samuel io non ho paura di un rincoglionito come te hai capito allora metti dimmi dove abiti cosa almeno a montevario viaggio fa la 52 vieni vai vai perchè non è 0 0 58 per caso 0 58 per caso per caso per caso per caso insulta insulta dai vai internazioni vai insulta vai lenta dolore perchè non dici brutale risultando ti incontri caldo ritardato intoloso teatro vamo a montemario viaggiano 52 dai vieni poi è un po' sopra il solito io sto aspettando con il solito e sapendo che il mio progetto di oggi stiti a ciò e alla faccia del metro ha detto il terreno foto quando la mette passate siamo alle dalle dimmi le idee allora vai di me ciao non serve un caro toradico cavolo cavolo noi ci giochiamo con le sue palle che giochiamo a bocce ma che a bocce troppo grandi quelle che giochiamo sai cosa a pimpong ritardato ma che a pimpong ha le biglie giochiamo